Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattatio. Sulla FIPILI code a tratti per traffico intenso tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Rallentamenti in direzione mare tra Santa Croce e Montopoli per un incidente. Prestare attenzione per nebbia a banchi segnalata in A1 tra Monte San Savino e Fabbro e in A11 tra Alto Pascio e Lucca e tra Pistoia e Prato Est. Sulla 1 chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni per lavori. La viabilità cittadina a Firenze. Da oggi chiusura della corsia di via Piercapponi da Viale Don Minzoni per i veicoli diretti verso Piazza della Libertà. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!